dopo quasi tre settimane c'ho ancora dei pompelmi a bordo e il pompelmo secondo me è una frutta interessantissima perché già mi piace il nome mi piace il nome pompelmo troppo che sia un bellissimo nome e poi perché quando fa caldo ti rinfresca tantissimo questo si può dare al Nettuno organico con all'organico e questo si mangia per rinfrescarsi e comunque abbiamo ripreso i nostri vecchietti stiamo navigando al centro tra i due e se tutto va bene non abbiamo inconvenienti e Nettuno è con noi appena il vento aumenta ce ne scappiamo che sarebbe il momento di scapparsi grazie a tutti